Allora, buon martedì a tutti quanti, innanzitutto vi do la buona giornata, io ieri dopo tanto che aspettavo, 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 ero molto ansioso di questo film, di questo cattivo poeta, il film uscito al cinema che doveva uscire nel novembre 2000, poi tutti sappiamo che con il lockdown il film purtroppo ha ritardato nella sua uscita ed è uscito da poco dal mio paese, sono sei giorni che hanno riaperto le sale cinematografiche, quindi ho avuto finalmente la possibilità ieri pomeriggio di andare a visionare un film che volevo, ero ansioso nel vederlo, ero molto 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 ansioso perché sono una persona che comunque ama molto la storia, la revisione anche storica io l'adoro, quindi adoro parlare di storia, parlare di epoche, di comunque confrontarsi anche sulle epoche passate, nel capire magari le situazioni frangenti, le difficoltà di un periodo e tutto quello che vi è dietro. Ovviamente, potevo perdermi un film su Gabriele D'Annunzio, sul nostro Vate, poi comunque D'Annunzio, cioè un rivoluzionario, uno scrittore, un poeta, un luminare, possiamo dire, nazionalista, un rivoluzionario, un combattente, era tutto D'Annunzio. Poi, insomma, Gabriele D'Annunzio, come tutti sappiamo, insomma, abruzzese, io sono abruzzese, anche nel sangue, quindi sono di Alba Adriatica, D'Annunzio è pescarese, quindi qui parliamo di un mio, come dire, quasi compaesano, siamo comunque abruzzesi, quindi siamo fieri di aver avuto un Vate, una persona così importante nel panorama proprio culturale, storico della nostra Italia, possiamo dire patria per rimanere in tema del film, comunque, no, per rimanere in tema del film che abbiamo dato negli anni 30, possiamo parlare di patria, o spero che nessuno mi censuri, perché dico patria, a parlando di patria, a parlando di D'Annunzio, io il film l'ho visionato, sia l'attore, bravissimo, complimenti, che l'attore è spettacolare, sembrava lui, sembrava lui negli ultimi anni, spettacolare, ma tutti gli attori sono stati molto, molto bravi, e devo ammettere che gli attori sono stati tutti veramente, veramente molto bravi, nelle loro parti, nella loro recitazione, hanno rielaborato in maniera buona un frangente, e anche le riprese stesse, non da sottovalutare le riprese, sono state veramente ottime, delle riprese fantastiche, molte inquadrature sono riuscite a capatare dei frangenti, delle situazioni importanti, con delle inquadrature anche dietro le scrivanie, e mi piacevano molto quelle inquadrature da dietro a scrivania, quando arrivava questo Comini, che arrivava a Roma, dinanzi ai ministri fascisti, quindi dinanzi a dei loro superiori, e qui mostrava praticamente questo Comini che arrivava, e da dietro a scrivania, con un passaggio così fulmino, da destra a sinistra, mostrava questo Comini che arrivava, inquadrature veramente belle, mostrava anche magari i minimi particolari dell'agitazione, questo Comini agitato, felice, nello stesso tempo è agitato perché comunque aveva ricevuto una carica superiore, cioè quindi era passato di grado, e il fatto di essere passato di grado a lui emozionava, ovviamente regava emozione, e da lì si mostrava proprio, mostravano questo frangente dove lui camminando magari pensava, 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 fino ad arrivare dinanzi a questo ministro, e da lì tutto ciò che gli stava dietro, l'emozione, l'agitazione, era tramite una telecamera, sono riuscito a capatare proprio le situazioni, con i prangenti momenti, sono veramente delle belle riprese, il Vittoriale, poi il Vittoriale è stato una cosa fantastica, riprendere lì d'annunzio sul Vittoriale è stata una cosa fantastica, devo dire che hanno fatto realmente delle grandi riprese, io non mi lamento, su ciò non posso lamentarmi, perché sono rimasto a bocca aperta sulle riprese, anche sugli attori che hanno rielaborato magari delle situazioni di quell'epoca, comunque. Per il film, ovviamente adesso parliamo dei temi, hanno trattato, allora, D'annunzio, Gabriele D'annunzio è un personaggio talmente maestoso, a parer mio, talmente maestoso, che a parer mio lo hanno sprecato, un personaggio sprecato in questo film, perché talmente, ripeto, maestoso, un personaggio, stato anche controverso, ma un personaggio di rilievo, culturale, storico, cioè lo hanno un po' ridotto, in maniera flaccida, questo personaggio maestoso, ad una puntina, una puntina, cioè il tipico personaggio arrivato alla vecchiaia negli ultimi anni, quindi questi 500 giorni fatti di anarchia, di cocaina, di droga e di donne. Il personaggio un po' in balia della sua debolezza ormai della vecchiaia, dei suoi vizi, e quindi un personaggio ridotto realmente a un puntino, un puntino che però in tutta sua maestosità, per esempio vi faccio un esempio, io poi me ne sono accorto, cioè l'impresa di Fiume, che è un'impresa spettacolare, fantastica, di rilievo, cioè D'annunzio è nato come un rivoluzionario, un nazionalista, era un nazionalista, la battaglia di Fiume l'ha vinta da nazionalista, l'impresa di Fiume è stata realmente citata per in tre minuti, cioè in tre minuti di citazione dell'impresa di Fiume, è fantastica, cioè proprio veramente poco, una cosa proprio così minuscola con una foto, niente di che, hanno rifatto poi magari verso la fine del film hanno un attimo rincentrato la sua figura, però ormai una figura decadente, decaduta, una figura morta, affacciata sul balcone con altri, come diceva lui nel film, quest'attore, altri eventi fantasmi che l'osservavano diciamo in maniera ormai rassegnata, come una forma di rassegnazione, come per dire il nostro vate, il nostro condottiero, ormai oggi ha abbandonato la sua figura per essere un personaggio debole in fin di vita, insomma, una cosa un po' triste, quindi ecco questo vorrei dire, cioè più che altro hanno incendrato la figura di D'Annunzio, più che altro l'hanno fatto come da tramite, cioè D'Annunzio è stato praticamente un tramite per far capire, cioè loro hanno voluto far capire tramite l'Annunzio che è stato messo lì in mezzo, sembrava veramente che la sua figura fosse stata messa in mezzo o di mezzo a questo film per far sembrare come ogni volta, ormai succede da anni, di quanto sia stato brutto, cattivo, questo è il fascismo, cioè D'Annunzio è stato sorprendente il tramite per denunciare tuttora oggi questo fascismo. non è che abbiamo parlato di Gabriele D'Annunzio in quanto storico, in quanto comunque scrittore, in quanto personaggio ovviamente di rilievo, di spicco della nostra cultura e anche di spicco della nostra storia, storia, delle sue imprese, no, ma D'Annunzio lo hanno messo lì di mezzo questo buono personaggio in preda ai suoi vizi, quindi hanno parlato di questo personaggio in beta, ai suoi vizi che praticamente ha fatto vedere, ha mostrato quanto sia stato brutto, cattivo, schifoso questo fascismo con l'alleanza del duce con il condottiere, il Führer tedesco, praticamente diciamo il film si è ingentrato su questo, si è ingentrato sugli ultimi due anni di vita di Gabriele D'Annunzio, un pochettino poco, anzi realmente poco per un personaggio, ripeto, torno a ripetere così maestoso, mi è sembrato un film un po' fazioso, che ripeto, il film di per sé con le riprese, con gli attori, ha incentrato bene gli attori, ha incentrato bene anche le riprese, ha fatto delle belle panoramiche, ma il film di per sé è stato realmente molto molto fazioso, perché oltre a non aver dato la giusta importanza, un personaggio importantissimo quale Gabriele D'Annunzio, quindi è stato sottovalutato, non rivalutato e soprattutto un personaggio giustamente, tu quando fai un film lo devi elevare un personaggio, qui invece di averlo elevato è stato praticamente sottovalutato ed è stato usato come tramite per spiegarci tuttora oggi, spiegare le nuove generazioni di quando bisogna denunciare il fascismo e di quanto sia brutto, bruttissimo, cattivo, orribile, schifoso questo fascismo. Io concludo così, il film comunque ha avuto dei momenti anche toccanti, molto toccanti, che ripeto, gli attori sono stati bravi, le sequenze sono state anche montate bene, ma di Gabriele D'Annunzio si è parlato poco, 5 minuti, se devi fare un film su un poeta devi comunque elevare questa figura, altrimenti avrei preferito più assistere a un film, ripeto, sul fascismo, ovviamente perché tanto questo è stato, a parer mio, è stato un film di denuncia sul fascismo e non un film su Gabriele D'Annunzio, a parer mio, sono idee, tutto qua, ciao a tutti.